ciao a tutti sono polli come al solito questo è il mio canale oggi parleremo di un video che trovo di un giochino che ho trovato particolarmente interessante e dai ecco e castor story grazie buon uomo questa prima era una capra questo sarei io va bene va bene un gioco abbastanza carino peccato che sono delle energie questi lampi qui famosi per altri giochi di storie ok che dovrei più fare anzi delle lanterne che ci servono per espandermi ammazzo che ne ho parecchie beh intanto faccio dei materiali che mi servirebbero di più come questi stone block o wood bin ok mi piace fa schifo ma abbiate pietà che servono per le costruzioni di valore più alto tipo queste che qui qui si possono aumentare di livello cosa molto carina qui abbiamo da raccogliere delle galline e delle mucche e adoro oltretutto abbattere gli alberi volete un esempio adesso arriviamo a lui città di circa alcuna energia perché latte what servono anche promette edifici attenzione non trovare delle puzzle che sono dovete ammazzare dovete fare in questi negozi qui delle spade di legno ecco la puzzola malefica e in quest'area non ci possiamo espandere abbiamo la spada sì ce l'abbiamo i colpi sono casuali veramente gli abbiamo sconfitto la puzzola gli alberi teoricamente ci si possono volere diverse lasciate un po di più un po di meno sto cercando un alberdo un po di meno no è lui di così tanto gioco vabbè bene ne abbiamo abbiamo di raccogliere da queste costruzioni malefiche chi abbiamo trovato ma io qui ci abito in cui noi abbiamo anche la missione ammazzare cinque pozzole e finiamo di raccogliere il latte e le mucche beh per fortuna per piantare non ci vuole il cibo bene bene cosa piace bene bene sugar che carini solo che per raccogliere ci vogliono energie praticamente possiamo avere quattro mucche quanti pezzi di prato quattro gallini gallino vogliamo un po come in farm story 1 solo che per le energie servono le energie aumenteranno di 1 man mano che salirete di livello poi questo serve una specie di potenza supplementare servono per espandersi anche perché ad esempio anche questi due edifici questo edificio e quest'altro edificio servono per aumentare ma anche i pezzi di muro poi qui ci sono le tensioni che adesso dovremmo fare queste pagare 2.000 monete e avere un toto di punti reali eh penso di aver detto tutto perché non c'è molto da dire beh a seconda di dove toccate le espansioni costano molto di più ad esempio guardate questa qui mi vogliono uccidere forse qui salta quant'è è un po meno cara però vabbè allora io sono Sam Polly iscrivetevi al mio canale mettete mi piace come io parlo un po di tutti i canali e di tutti i giochi scusate ad esempio fantasy story, frame story, dragon story e di tutti i canali e di molti altri becchery story sono tutti storie o storie se avete bisogno di mici negli storie io sono Elena Novepol però parlo anche di altri giochi come scontro di regni sia il serve italiano che serve l'inglese beh direi che ho detto tutto ciao a tutti ciao ciao